Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti per il Fabio Cannavaro Show! Can you hear me? Can you hear me? Fabio Cannavaro Buonasera a tutti Giorno i ragazzi pensano solo ai videogames e pochi hanno la voglia di correre dietro una palla Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Fabio piace il segnale della sua, certo, 90% è culo, 10% tecnica, però quanto capita la mettete? Prima di ogni partita disegnarsi il tricolore sulla mano e baciarlo prima del disco Io sarò il prossimo Fabio Cannavaro perché sono stupendo Ah, Fabio Cannavaro Cannavaro Smaller Cannavaro Abbiamo Grazie per la visione!